Benvenuti in Ecologia Verde. Oggi vogliamo parlarvi di un argomento che ci appassiona, l'importanza del riciclaggio per l'ambiente. Ogni giorno vediamo come la nostra natura soffra a causa dei rifiuti che generiamo. La quantità di plastica, metallo e altri materiali che finiscono nei nostri oceani e fiumi è allarmante e i loro effetti sulla fauna marina sono devastanti. Ma non tutto è perduto. Abbiamo l'opportunità di cambiare questa situazione e fare la differenza, riciclando. Riciclare non significa solo separare i nostri rifiuti, ma anche essere consapevoli del nostro consumo e ridurre il nostro impatto sull'ambiente. Riciclando, stiamo dando una seconda vita ai materiali e evitando che finiscano nelle discariche e nella natura, dove impiegano centinaia di anni per decomporsi. Inoltre, il riciclaggio è uno dei migliori modi per combattere i cambiamenti climatici. Riutilizzando i materiali, riduciamo la quantità di energia necessaria per produrre nuovi prodotti e evitiamo l'emissione di gas serra. Ma il riciclaggio non è importante solo per il nostro pianeta, ma anche per la nostra salute. I rifiuti malgestiti possono contaminare l'aria, l'acqua e il suolo, avendo un impatto negativo sulla nostra salute e su quella delle generazioni future. Immaginate un mondo in cui ogni persona ricicla e si preoccupa dell'ambiente. Un mondo in cui gli oceani sono puliti e le città sono libere dall'inquinamento. Quel mondo è possibile e dipende da ciascuno di noi renderlo realtà. Vi invitiamo quindi a unirvi alla causa e fare la vostra parte per proteggere l'ambiente. Il riciclaggio è un'azione piccola ma significativa che può fare una grande differenza. Insieme possiamo creare un futuro più sostenibile e un mondo migliore per tutti. Grazie per averci accompagnato in questa lotta. Alla prossima, ecologisti!